Continua la programmazione in casa Delfe e Savellino. La società, nelle scorse ore, ha annunciato il rinnovo per la stagione 2023-2024 con coach Andrea Crosariol. Il trainer milanese dunque siederà sullo scrano di Biancoverdi per il prossimo campionato di Serie B nazionale. E non solo. A Codivare, coach Crosariol e Cisarano, Salvatore Formato nel ruolo di primo assistente e Antonio Curcio nel ruolo di secondo. Inoltre è stata rinnovata la fiducia in Massimo Piccarillo che continuerà a ricoprire il ruolo di preparatore fisico. Per la costruzione del roster è stato dato un mandato da Andrea Crosariol ed il direttore generale Antonello Nevola di costruire l'organico, mentre per lo staff è tutto già definito. Il primo ha indicato dei giocatori per il prossimo anno, il secondo dovrà trattare con giocatori e agenti. Il budget totale si dovrebbe aggirare intorno agli 800.000 euro. La metà di questo sarà utilizzato per la costruzione dell'organico della prossima stagione. In generale i Biancoverdi si stanno guardando un po' intorno. Dopo gli errori della passata stagione si proverà a costruire una squadra più integra fisicamente e più atletica.